Che cos'è? Non è una metafora dei nostri tempi, ecco perché è andato in crisi il Vaticano, perché se la Chiesa scopre la figa, sono rovinati! Non vedete la faccia di uno come Milingo che ride, ride! Guardate il Cardinale Tonini, non ha mai riso nella sua vita, perché perché sei massacrato di pippe! All'operato non credo, cloro e clero, ai vostri doppi non credo, cloro e clero, dei riscaldoni mi fido, cloro e clero, alla GR non vado, cloro e clero!